buongiorno a tutti siamo al congresso nazionale di sinistra classe evoluzione la sezione italiana della tendenza marxista internazionale abbiamo il piacere di avere con noi fred weston che è membro della segreteria internazionale della nostra internazionale rivoluzionaria e siamo qua per una caccherata per capire un po il progetto che l'internazionale ha lanciato io comincerei già subito con la prima domanda fred spiegaci perché proprio adesso si vuole lanciare questa internazionale comunista rivoluzionaria qual è la necessità beh partiamo dal fatto che stiamo di fronte a una crisi del capitalismo senza precedenti e stiamo solo all'inizio gli effetti di questa crisi si vedranno nei prossimi anni e si aggraverà sempre di più però penso che qualsiasi persona sente eh che la società sta andando male sta andando in una direzione che nessuno vorrebbe vedono la guerra eh Russia contro l'Ucraina Gaza ma non solo tantissime guerre nel mondo ehm vedono eh la crisi economica vedono l'inflazione vedono il cambio climatico che sta creando tantissimi problemi vedono la crisi migratoria vedono ehm la sanità che ha lo sfascio in tutti i paesi la scuola pubblica i diritti democratici c'è sentono che c'è un sistema veramente malato il capitalismo ha raggiunto un punto dove veramente se non lo spaziamo via è un pericolo per la sopravvivenza della stessa specie umana e moltissimi particolarmente tra i giovani questo lo sentono allora perché fondare adesso l'internazionale comunista rivoluzionaria noi già abbiamo ehm diciamo lavorato in questo senso nell'ultimo anno 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 e mezzo perché eh analizzando la situazione eh e anche toccandola con mano negli interventi che facciamo ci siamo resi conto che eh questi anni di crisi che in effetti diciamo parliamo di ultimi 15 anni 15-16 anni del 2008 sono anni di una crisi che si approfondisce sempre di più varie correnti che sono apparse Corbyn, Mélenchon, Sirisa, Sanders abbiamo visto tante espressioni politiche di questa radicalizzazione a sinistra che però sono fallite eh dovuto dovuto al fatto che chi guidava questo queste correnti eh credeva di poter riformare questo sistema eh hanno dimostrato nella pratica che questo non lo non è possibile ma non solo noi lo capiamo da un punto di vista teorico una grossa fetta di giovani e giovani lavoratori hanno cominciato a trarre questa conclusione che qua sto sistema non ci si può più giocare a cercare del sistema questo con l'altro sistemare il bilancio eh cercare di salvare la sanità è un sistema marcio che va torto di mezzo e non a caso una fascia non indifferente di giovani in tanti paesi vanno a cercare Lenin vanno a cercare Marx noi incontriamo dei giovani che già hanno letto dei testi indipendentemente da far parte o no di un'organizzazione marxista rivoluzionaria giovani che si identificano come comunisti e appena che ti vedono e che tu sei comunista organizzati si aggregano e allora noi abbiamo tratto la conclusione che qui c'è proprio bisogno di un punto di riferimento a livello internazionale che si basa sulle idee del comunismo rivoluzionario cioè le idee di Lenin di Marx e renderlo più visibile possibile ehm perché c'è una urgenza di costruire dei partiti rivoluzionari dei partiti comunisti rivoluzionari capace di guidare la classe operaria nel futuro nella trasformazione della società una trasformazione rivoluzionaria della società ehm e è urgente perché il sistema va sempre più in crisi e per questo noi crediamo che il momento anzi forse uno forse bisogna farlo un attimino prima però come sempre uno si rende conto della realtà quando analizza i dati e un po' di esperienza ma il momento è arrivato giustamente giustamente dicevi appunto che uno dei fattori fondamentali nella radicalizzazione oggi soprattutto dei giovani ma non solo è la questione appunto eh della guerra in Palestina e quello che sta succedendo eh appunto con il con il genocidio a Gaza e questo è un fattore che appunto tutte le persone che ne vediamo le manifestazioni in tutti i settori vedono come una questione appunto pressante urgente in cui dobbiamo fare qualcosa qual è la nostra posizione su questo cosa diciamo noi a tutte queste persone che si vogliono mobilitare? Allora ehm la il problema della Palestina va indietro nel tempo in realtà è un prodotto dell'ultimo secolo in un certo senso è un prodotto della crisi la grande crisi degli anni venti anni trenta perché quello fu un'epoca di rivoluzioni e contro rivoluzioni la sconfitta dalla rivoluzione tedesca eh per vari errori sia dei social democratici ma anche diciamo di infantilismo dei primi partiti comunisti portarne a una sconfitta dopo l'altra della classe e in Germania questa sconfitta si è presentata come l'ascesa del nazismo il nazismo ha usato l'antisemitismo per aizzare una parte della popolazione contro il nemico che creava i problemi quando il nemico era il capitalismo ma per deviare l'attenzione dalla causa vera del problema hanno usato quello che la borghesia e le classi dominanti hanno sempre usato dividere il popolo per dominarlo trovare un caprio spiatorio a cui su cui scaricare tutte le colpe e scaricarono le colpe sugli ebrei e portarono all'olocausto questo massacro di milioni di di ebrei questo è stato l'elemento oggettivo diciamo che ha scatenato poi il successo dello sionismo che prima non era seguito anzi gli ebrei dove erano aveva una tradizione socialista di sinistra non a caso molti bolshevichi erano ebrei marx era ebreo trotsky era l'origine ebrei il fallimento della lotta di classe degli anni 20 e 30 l'ascesa del nazismo ha portato a rafforzare questa idea questo ha creato le basi per la creazione dello stato di israele perché per quanto noi possiamo capire i problemi degli ebrei e difendere gli ebrei contro il pogrom contro i massacri non è mai possibile giustificare la soluzione di un problema di un popolo facendolo pagare ad un altro popolo in realtà l'israele non è la soluzione loro l'hanno presentato agli ebrei come lo stato dove sarete sicuri posto sicuro per gli ebrei perché questa era l'idea siamo un popolo minacciato abbiamo bisogno del nostro stato lo stiamo vedendo sono 75 anni che esiste israele e sono 75 anni di guerre periodiche e l'ultimo è quello che è successo a ottobre altro che paese sicuro per gli ebrei ma perché succede questo perché israele è stata costruita costruita togliendo ad un altro popolo i loro diritti diritti nazionali non hanno neanche il diritto di cittadinanza non hanno uno stato proprio sono quasi sei milioni quelli che vivono nei campi rifugiati in libano siria giordania in cis giordania stesse a gaza e non solo è stato tolto uno stato storicamente il sionismo c'è un progetto che è quello di prendersi tutta la palestina storica e israel con in base a quest'idea che dio gliel'ha dato in base a questo hanno negato ai palestinesi uno stato questo non può che creare enorme risentimento e giustificato risentimento tra il popolo palestinese che in un modo o nell'altro ha combattuto per difendere i suoi diritti inizialmente il loro punto di riferimento era l'olp che li rappresentava politicamente abbiamo visto la prima intifada che fu un vero sollevamento di massa del popolo palestinese e lo stato israeliano può fare quello che vuole arrestare migliaia uccidere le centinaia adesso sono decine di migliaia che stanno uccidendo se loro credono di risolvere il problema con questi mezzi stanno vivendo in un mondo di sogni perché anche se schiacciano gaza oggi voi immaginate essere un giovane a gaza oggi che magari sei il nipote di uno che è stato cacciato dall'israele 70 anni fa poi magari cacciato da un'altra zona finalmente stai a gaza minimo un posto dove c'è una casa condizioni minimamente civili ti distruggono tutto di nuovo ti spostano di nuovo hanno devastato il tuo territorio questo non può che preparare nuove guerre sarà un problema che non si risolverà mai su basi capitalista anche perché l'imperialismo sostiene israele particolarmente l'imperialismo americano avete visto quello che è successo appena che è scoppiato questo conflitto due portaerei c'è un popolo che sta che subisce il massacro la fame eccetera loro il pensiero principale è stato due portaerei per assicurare israele fondamentalmente un avvertimento agli altri noi crediamo che su basi capitaliste non è facile dirlo ma bisogna dire la verità su basi capitaliste israele continuerà ad essere un forte stato stato borghese stato capitalista imperialista nella zona e sarà armato fino ai denti e continuerà ad opprimere i palestinesi anzi possiamo dire che la situazione dei palestinesi è al punto peggiore tutta la sua storia da un punto di vista anche dalla prospettiva di uno stato proprio il sionismo è un prodotto del capitalismo del ventesimo secolo non abbiamo nulla contro gli ebrei che abitano in israele ma sì siamo contro il sionismo come idea i palestinesi hanno un diritto a un paese che possono chiamare il loro paese oa loro patria con i diritti democratici tutti i diritti democratici e questo in questo momento per noi è possibile solo abbattendo il sistema economico in tutto il medio oriente che ha creato questa situazione che il capitalismo nel medio oriente quando un regime comunque l'egiziano che in teoria dovrebbe essere fratello arabo dei palestinesi collabora alla chiusura della frontiera e lascia che questi vengono massacrati quando la monarchia della giordania monarchia araba che dovrebbe essere fratello della dei palestinesi cosa fanno arrestano più di mille giovani che stanno marciando verso la frontiera per andare aiutare i palestinesi il nemico degli arabi ce l'hanno in casa in ogni paese arabo la lotta deve essere in tutta la regione abbattere questi regimi creare un egitto socialista un egitto in mano ai lavoratori un giordano in mano ai lavoratori in questo contesto noi possiamo immaginare una il territorio della palestina storica israel palestina sotto il controllo dei lavoratori in queste condizioni si può immaginare uno stato dove i palestinesi hanno tutti i diritti democratici uguale uguale che che gli altri popoli nella zona questo è per noi la soluzione ultima diciamo del problema eliminare le classi che hanno interesse a mantenere questa situazione bene fermando fred la tua proposta di soluzione il conflitto tra l'esera palestina viene spontanea domanda l'interessare comunista rivoluzionaria propone una soluzione socialista la nostra soluzione comunista però cos'è il comunismo per noi in cosa differisce il comunismo che proponiamo da quello che abbiamo visto nell'unione sovietica ad esempio allora il comunismo per noi non è una dittatura burocratica dove non è ammessa come diciamo l'espressione delle proprie opinioni non è un sistema con dei burocrati che vivono al di sopra delle masse in condizioni di privilegio che purtroppo è quello che è diventato l'unione sovietica sotto stalin noi ci rifacciamo a lenin quando lui diceva che ogni cuoco può essere primi ministro quando lui diceva che quando parlava del del salario dei burocrati stessi il vero comunismo è l'eliminazione della proprietà privata dei mezzi di produzione cioè non avere dei capitalisti che hanno il controllo della ricchezza e che decidono dove investire il denaro ma un sistema dove la ricchezza che sarà prodotta dai lavoratori viene gestita da chi la prodotta dai lavoratori stessi chiaramente non è ogni operai si sveglia la mattina e decide quello che farà la fabbrica però attraverso delle strutture democratiche dei consigli di fabbrica e leggendo delle gare dei consigli locali cittadini regionali cioè creare un sistema eletto direttamente dal basso dai lavoratori a tutti i livelli che gestisce l'economia che deve essere pubblica e statale ma dove c'è un controllo democratico sul programma da portare avanti un sistema dove i funzionari eletti non devono guadagnare più dei lavoratori oggi abbiamo dei dirigenti sindacali in molti paesi che guadagnano 10 volte lo stipendio di un lavoratore come può un dirigente sindacale rappresentare i lavoratori se vive come un borghese diciamoci la verità devono vivere come lavoratori se tu se tu vuoi aumentare la bolletta della luce tu devi avere lo stipendio i lavoratori non quello di un borghese il comunismo vuol dire che chi governa chi viene eletto prima di tutto deve vivere come i lavoratori due deve essere deve essere il diritto di richiamo cioè che lo puoi revocare e eleggere un altro a suo posto non ci deve essere la poltrona sicura e la carriera politica che poi ti porta a distaccarti dalle masse un sistema come questo dove la proprietà è pubblica e dove la gestione è democratica è l'inizio del cammino verso il vero comunismo questo è quello che pensiamo che sia necessario con il pieno diritto di espressione delle opinioni altrimenti come fai a gestire veramente una società negli interessi dei lavoratori se non c'è l'espressione delle opinioni dei lavoratori allora noi appunto diciamo come tu dicevi all'inizio che per ottenere questo effettivamente abbiamo bisogno di un partito di un partito mondiale della cassa lavoratrice e quindi appunto per fondare appunto l'internazionale comunista rivoluzionaria abbiamo deciso appunto dal 10 al 15 giugno di appunto di fare una una fondazione una conferenza di fondazione di questa organizzazione che appunto sarà anche una scuola del comunismo in cui appunto avremo molte sessioni sia di teoria appunto che di analisi dell'attualità è quello che noi stiamo stiamo cercando di portare avanti e appunto penso che sia importante appunto capire perché appunto noi che tipo di partito siamo che come abbiamo deciso di appunto arrivare a questa conferenza di fondazione che cosa perché una persona appunto dovrebbe partecipare a questa che non sarà solo una conferenza a cui appunto si partecipa passivamente ma un invito effettivamente ad essere membri fondatori della nostra internazionale e che tipo appunto di discussioni faremo in quella in quella sede beh prima di tutto sottolineare che in tutti i paesi dove siamo presenti e siamo presenti in tanti paesi stiamo lanciando in più paesi partiti ci siamo dato il nome partito in più in più paesi come la gran bretagna in canada ed altri paesi perché vogliamo creare un'organizzazione che sia la più visibile possibile che sia il più chiaro possibile il messaggio che trasmette che cos'è cioè che è un'organizzazione comunista e rivoluzionaria alla quale qualsiasi giovane o lavoratore che vuole lottare per la trasformazione di questa società possono aderire e noi invitiamo i giovani lavoratori che ascoltano che leggono il nostro materiale guarda i nostri siti ascolta i nostri podcast eccetera di chiedere l'adesione all'organizzazione ehm eh nei paesi dove sono e eh di partecipare anche alla scuola alla scuola del comunismo che faremo a giugno che sarà in parte una conferenza che lancerà ufficialmente questa nuova internazionale internazionale comunista rivoluzionaria e voglio dire il perché abbiamo usato questo nome perché noi ci rifacciamo l'internazionale comunista di Lenin i primi quattro congressi dal 1919 al 2000 eh al al 1922 i primi quattro congressi le tesi le discussioni i documenti li consideriamo nostri quelle sono le nostre idee ehm abbiamo aggiunto chiaramente eh l'aggettivo rivoluzionario l'internazionale comunista rivoluzionaria per distinguerci purtroppo da quello che è diventato dopo eh diciamo il comunismo agli occhi di molti che è questo burocratismo questo stalinismo questa dittatura ehm e eh sarà anche una scuola con tante sessioni con tante questioni ehm di teoria marxista ehm dove chi parteciperà chi ascolterà avrà una idea chiara di chi cos'è l'internazionale comunista rivoluzionaria e invitiamo aderire e eh unirsi alle sezioni nazionali a quella italiana per esempio ehm e militare per costruire questo partito noi crediamo che c'è un grosso potenziale là fuori ci sono tanti giovani lavoratori che diciamoci la verità quale partito attualmente che sta in Parlamento è un partito a cui uno che vuole cambiare la società possa aderire credendo davvero che lì può cambiare qualcosa non c'è un partito eh che offre ai lavoratori una vera alternativa sono tutti i partiti che in qualche modo gestiscono questo sistema giustificano questo sistema e noi diciamo che è ora di dire basta a tutti questi e costruire un partito che veramente difende l'interesse dei lavoratori e dei giovani che può essere soltanto un partito comunista rivoluzionario che fa parte di un internazionale comunista rivoluzionario che tutti lavoriamo insieme per lo stesso obiettivo che è un cambiare il mondo e mettere fine alla fame alla carestia alle guerre alla crisi migratoria a tutti i problemi che vediamo abbiamo un grande compito quello di in effetti ripulire il mondo del casino creato da dal capitalismo ma per per poter cambiarlo bisogna prima togliere di mezzo questo sistema e ci vuole per questo un'organizzazione rivoluzionaria mondiale che stiamo lanciando benissimo grazie a fred weston ricordiamo ai nostri ascoltatori e anche visualizzatori che nella descrizione dei nostri video dei nostri audio sui podcast potete trovare tutte le informazioni su come partecipare alla scuola comunismo la conferenza di fondazione della nostra internazionale oppure per come aderire o chiedere informazioni per aderire direttamente a sinistra classe rivoluzione alla sezione italiana e alla tendenza al sistema internazionale grazie a tutti ciao 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 ciao